Il primario, perché questo era il concetto che la gente conosce, è quello che detta poi i tempi sul reparto e a tutto il resto dell'equipe. Quindi è quello che poi si prende la responsabilità finale a fronte di una complicazione o di un paziente difficile. È quello che deve decidere come impostare se la terapia che è stata impostata alla fine è corretta. Quindi è molto rilevante sia da un punto di vista professionale ma anche poi per come il primario si pone nei confronti della propria equipa perché i segnali che dà sono quelli che poi dettano i tempi all'interno del proprio reparto. Il mandato è un mandato ampio, ognuno con delle competenze molto diverse perché abbiamo in questo caso proprio previsto una conferenza stampa in cui presentiamo sia territoriali che ospedalieri proprio per segnare questo forte lavoro di integrazione che ci deve essere tra i reparti ospedalieri e la parte distrettuale. Quindi gli obiettivi che noi prevediamo sono obiettivi misti in cui è molto difficile che uno lì riesca a raggiungere se non trova anche una compartecipazione nell'obiettivo con i colleghi che possono essere sia colleghi ospedalieri sia ovviamente nel territorio nei quali c'è bisogno anche dello specialista che intervenga a livello territoriale in modo tale da poter lasciare le persone nelle cure domiciliari. La ricerca permette di migliorare molto la qualità delle prestazioni che vengono date. Questo è un primo elemento di ricaduta. L'altro elemento è sicuramente l'attrattività perché un conto è andare a lavorare in un'azienda dove si fa solo assistenza, un conto è per un giovane medico avere la possibilità anche di fare ricerca e formazione continua. Quindi è un elemento che secondo noi potrà essere strategico per riuscire ad attrarre nuovi medici. Qualsiasi persona tendenzialmente prima di fare ancora la visita e c'è male a un ginocchio si fa una risonanza sul ginocchio perché l'imaging è diventato da un punto di vista culturale quasi preeminente rispetto alla cura. Ed ecco che quindi soprattutto su alcune prestazioni, parlo dell'imaging, quindi della radiologia, dove poi è il settore dove c'è più carenza, è chiaro che dobbiamo da una parte fare un lavoro aumentando lo stesso la necessità di offrire più esami.